Benvenuti a questo video tutorial nel quale vedremo un'applicazione pratica di un webquest abbinato al tema dell'alimentazione consapevole. Tutti i materiali presentati sono coperti da Copyright Creative Commons nella variante Buy, vale a dire quella variante per cui chi utilizza i materiali è invitato alla citazione della fonte e per finalità NC, non commerciali. Prima di vedere nel dettaglio il webquest due parole su questa strategia. Cos'è e a cosa serve il webquest? Innanzitutto rispondiamo alla prima domanda. Cos'è il webquest? È una strategia didattica attiva che richiede agli studenti di fare delle ricerche su dei materiali numerosi o ristretti ma già validati, già scelti, già vagliati dal docente. E sulla base di questa ricerca produrre un prodotto, una relazione, una presentazione, un video. Secondo l'idiatore Bernie Dodge del webquest le fasi sono sei. C'è un'introduzione, un compito, consegna delle risorse, indicazione del processo, suggerimenti e conclusioni. A differenza del PBL, Problem Based Learning, l'apprendimento per problemi, il webquest risulta una strategia molto più mirata, molto più strutturata, soprattutto per un motivo, perché le risorse vengono già vagliate e consegnate dal docente. Vediamo ora cosa può servire il webquest. Possiamo individuare tre scopi. Il primo, a utilizzare la rete in senso didattico facendo e facendo fare delle ricerche non dispersive. Oggi è sostanzialmente impossibile dire ai ragazzi di fare una ricerca senza dare indicazioni sitografiche. Il webquest, limitando il numero di risorse consultabili, ci aiuta in questo senso. Un altro scopo è quello di innovare la didattica tramite metodologie attive, cioè quelle metodologie che mettono al centro lo studente e il suo lavoro, in questo caso nell'ambito di una risoluzione di un problema. E poi, un altro motivo non meno importante, è quello di integrare le tecnologie nella didattica mediante un ambiente di lavoro particolarmente limitato e attraverso un compito molto puntuale. Quindi questa è una integrazione delle tecnologie che non rincorre le mode, ma che si basa su un obiettivo o su una serie di obiettivi molto specifici. Vediamo ora un esempio di webquest, questa volta dedicato al cibo, il titolo che vuole essere un omaggio a Carver è di cosa parliamo quando parliamo di cibo. Il lavoro parte da questi tre testi, ma potrebbero esserci anche altri libri in consultazione. Giulio Innocenzi, Tritacarne, perché ciò che mangiamo può salvare la nostra vita e il nostro mondo. Christophe Brusset, siete pazzi a mangiarlo, un manager dell'industria alimentare, svela cosa finisce davvero nella nostra tavola e spiega come difendersi. Stefano Liberti, viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta, titolo I signori del cibo per minimum facts. Ora, queste sono le risorse, questi sono i testi di cui dobbiamo disporre per svolgere il progetto, questi o altri testi, tre o anche due. Perché questa scelta? Innanzitutto per fare un webquest, ma sullo sfondo ci sono anche altre due motivazioni. Il primo, far riflettere i ragazzi su quella che è la cittadinanza attiva e consapevole, ma anche su quella che è la consapevolezza alimentare. Quindi, qui vediamo una caratteristica tipica delle metodologie attive, cioè si parte da un problema il più possibile reale. Capire, per esempio, cosa finisce nel nostro piatto e che percorso ha fatto ciò che finisce nel nostro piatto. Vediamo quali sono gli obiettivi. Innanzitutto una maggiore consapevolezza di ciò che mangiamo, quotidianamente. E allo stesso tempo, ed è questa la parte più tecnica, l'obiettivo è favorire i ragazzi nel fare ricerche critiche in dei saggi, come quelli che abbiamo mostrato. Cosa ci serve? I due o tre libri di testo che abbiamo individuato prima, possiamo dare ai ragazzi a leggere anche solo una selezione dei capitoli, e eventualmente, qui le tecnologie non sono mai centrali, un computer per una presentazione multimodiale o per la stesura di un testo in digitale. Quali sono i tempi? I tempi, se breve, il webquest può richiedere una settimana. Se lungo, anche un mese, dipende anche da cosa chiediamo e quanto materiale diamo da consultare ai ragazzi. Lavorare in singolo o in gruppo? È sempre opportuno lavorare in gruppo in queste metodologie, visto che tendenzialmente i ragazzi lavorano in singolo. Ma un lavoro di questo tipo è possibile svolgerlo anche in singolo, specialmente nella variante breve. Quali sono ora le fasi di lavoro da seguire? Attenendoci al protocollo di Bernie Dodge, che individua questi sei momenti, introduzione, compito, risorse, processo, suggerimenti e conclusioni, possiamo passare il rassegno uno a uno. Nell'introduzione, qui si comunica ai ragazzi gli obiettivi del lavoro, ma anche i tempi e gli strumenti cartacei o digitali che potremo utilizzare e pure naturalmente gli estremi bibliografici da inserire nel nostro lavoro. A questo punto bisogna scegliere cosa far fare ai ragazzi. Qui vengono proposte due possibilità. La prima, una ricerca. La consegna deve essere una ricerca di due cartelle, se webquest breve o otto, se lungo, con citazioni testuali su tre prodotti a scelta di ragazzi ma di largo consumo. Abbiamo esempi, carne di maiale, pomodori, banane, tonno, soia, tutti cibi largamente presenti nei testi sopra menzionati. Quindi in questo caso il risultato è una ricerca. In questo caso parliamo in un certo senso di bookquest, cioè ricerca in un libro. Oppure in questo caso la struttura di questa relazione ricerca potrebbe essere fatta così. un'introduzione, poi si chiede ai ragazzi di studiare le provenienze dei prodotti considerati, le eventuali possibili alternative e giungere a delle conclusioni. Oppure, e questo può essere un altro webquest che parte sempre dai libri in oggetto ma chiede in uscita un altro prodotto, in questo caso una ricerca sull'impatto ambientale che ha il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri nella nostra dieta quotidiana. E in questo caso la relazione ricerca potrebbe avere queste fasi. Il lavoro dei ragazzi dovrebbe prevedere dunque una introduzione, uno studio dell'impatto ambientale di alcuni prodotti a scelta ma presenti nei libri e riprodotti per citazione nel loro scritto, eventuali possibili alternative e conclusioni. Risorse. Cosa bisogna dare ai ragazzi per svolgere il lavoro? I testi. I testi che abbiamo detto prima. Ed eventualmente anche altri. Oppure una sitografia, per esempio. O perché no dei video. Ci sono dei video molto interessanti anche di quegli stessi autori che abbiamo citato. in cui si specificano certi passaggi dei libri oppure delle dispense cartacee. Questa è la fase delle risorse. Questa fase è importante perché questa fase è in un certo senso vagliata dal docente. I ragazzi per fare il webquest dovranno utilizzare unicamente le risorse consegnate dal docente. Oppure, nell'ipotesi che il docente preveda anche l'utilizzo di risorse esterne, occorre stabilire dei criteri per la scelta e la selezione di tali risorse. Processo. Qui si consigliano ai ragazzi una serie di step, di passaggi successivi, per procedere in maniera consapevole e idonea alla consegna. Questo è un esempio di processo. Per esempio, si invitano i ragazzi innanzitutto a leggere i testi o consultare le risorse, i video, per esempio i link. Si invita poi a fare una seconda lettura con enucleazione di quelli che sono i passaggi più importanti, stesura di una scaletta e poi stesura della ricerca vera e propria. Fase finale da fare possibilmente con un compagno di classe o direttamente in gruppo, una rilettura del lavoro per valutarne la chiarezza. Suggerimenti. Questo passaggio può essere fatto all'inizio o in corso d'opera. Qui il docente deve prevedere quali sono le possibili difficoltà e preventivamente risolverle. In questo caso le difficoltà possono essere legate ad alcuni aspetti che i ragazzi potrebbero non conoscere. Un lavoro di questo tipo può essere svolto all'ultimo anno della secondaria di primo grado o nella secondaria di secondo grado. Nella secondaria è molto probabile che i concetti come agricoltura intensiva, monocultura, risorse esauribili, danni irreversibili, sfruttamento, popolazione autoctone, multinazionali siano già noti. In altri casi è possibile invece chiarire questi aspetti che il docente sa che torneranno spesso nel testo, nei testi, che non sempre hanno un glossario. Conclusione. Una volta effettuate le consegne in classe si leggeranno almeno due presentazioni, ricerche e relazioni. Si procederà poi alla valutazione. Due parole sulla valutazione, perché il WebQuest, come ogni metodologia attiva, richiede una valutazione differente da quella tradizionale. Innanzitutto, cosa valutare e come? Per esempio, rispetto delle consegne, nei tempi, nelle modalità e nelle forme richieste. L'aderenza ai contenuti, rispetto a quanto indicato dalle introduzioni del docente. Chiarezza espositiva, naturalmente, e uso più o meno sensato, esornativo o invece critico, del multimediale, se i ragazzi hanno per esempio deciso di effettuare anche una presentazione multimediale. Vediamo ora una valutazione interna al processo per il docente. Un docente può essere soddisfatto di aver introdotto una metodologia attiva, ma deve in ogni caso valutarne l'impatto. Ci sono molti modi per farlo, questo è uno dei più semplici. In questo modo si valuta il gradimento, tramite per esempio un questionario. Tramite questa scheda il docente valuta quanto sia stata apprezzata, quali difficoltà hanno incontrato i ragazzi nell'affrontare il tema. Apprendimento, perché non dimentichiamo che il webquesta è una metodologia, in ogni caso, di apprendimento. E di conseguenza il docente deve comunque valutare se i contenuti studiati attraverso questa metodologia siano stati appresi. E in questo caso può effettuare una verifica più o meno tradizionale. E poi, e questo forse è l'aspetto più interessante di tutte le metodologie attive in generale della media education, capire se c'è stato un cambiamento nelle abitudini. Per esempio, divenire abbastanza esperti del processo che porta le carni sulla nostra tavola potrebbe portare a un consumo differente di questo prodotto, potrebbe portare per esempio a un cambiamento. Questo, tuttavia, per essere apprezzato, richiede due test. Uno prima del lavoro e uno successivo al lavoro. Il tema del cambiamento. Vediamo ora qualche conclusione. È abbastanza probabile che un lavoro di questo tipo venga particolarmente apprezzato dai ragazzi per due motivi. Il primo è perché è un approccio nuovo. Il secondo è perché è un tema legato al vissuto di tutti. E quindi vediamo qualche aspetto positivo che potrebbe un docente rilevare alla fine del processo. Innanzitutto, siamo partiti da un problema reale, ciò che mangiamo tutti i giorni, e si è chiesto un lavoro il più possibile autentico. Secondo, il tema in oggetto è legatissimo al vissuto degli studenti, diversamente dalla stragrande maggioranza degli argomenti affrontati a scuola. L'argomento, in questo caso, è intrinsecamente interdisciplinare. Come ogni problema, che è complesso, qui si intrecciano contenuti di scienze, di geografia, di economia. Quindi l'argomento è potenzialmente molto fertile per un eventuale approccio interdisciplinare. Poi abbiamo lavorato sulla cittadinanza attiva, perché sapere l'impatto ambientale e sapere il processo che porta un prodotto sulla nostra tavola è un tema di cittadinanza attiva e, naturalmente, consapevolezza alimentare. Abbiamo poi, probabilmente, fatto lavorare i ragazzi in gruppo, e questo non avviene molto di frequente, quindi senz'altro è un aspetto positivo. E poi abbiamo lavorato non sulle conoscenze. Come avete visto, tutto questo lavoro non ha come focus e obiettivo le sole conoscenze, ma tanto altro. Quindi abbiamo lavorato, sì, sulle conoscenze, ma anche sulle competenze, in particolare su quelle cosiddette soft skill, vale a dire quelle competenze di relazione non solo legate a delle abilità, non solo legate a dei contenuti. E poi, probabilmente, avendo dato tempi di consegna abbastanza lunghi, minimo una settimana, massimo un mese o di più, abbiamo probabilmente rispettato anche i tempi di apprendimento di ogni studente. WebQuest, tra le altre cose, si basa sul cosiddetto Mastery Learning, cioè l'apprendimento per la padronanza. Uno degli assunti di questo approccio è quello per cui ciascuno di noi può raggiungere buoni o ottimi risultati, ma con tempi e strade diverse. Se dunque chiediamo una consegna da oggi per domani, probabilmente solo alcuni saranno in grado di rispettarla al meglio. Molti faticheranno, molti non ci riusciranno. Se invece il tempo della scadenza è particolarmente più dilatato, una settimana o due, allora è molto probabile che, col nostro supporto, tutti o la gran parte dei ragazzi raggiungano dei risultati apprezzabili. Bene, ringrazio per l'attenzione e ricordo che per organizzare corsi e workshop sul web, su altre metodologie didattiche attive,